La seconda vittoria, la prima non è avvenuta qui, quindi il finale non lo conoscevo molto bene. Sono felice perché la squadra ha lavorato bene, era la prima volta che provavamo un treno vero e proprio, il primo anno. Sono felice per la squadra, il nuovo progetto che è partito alla grande, penso che siano veramente felici loro. Quindi credo che chi ben inizia è a metà dell'opera, come si suol dire. Grazie.